Ti perdono solo se mi canti un Jesus Christ, canta! Questo qua? Questo non è il Jesus Christ! Chi che spara? Dove sei? Dammi la tua pistola! Dammi la tua pistola! Oh, Madonna! Questo è stato di strada! Questo lo shot! Che figata, hai sconuto anch'io! Ora, l'hai tu quello che ti dice, lol! Neee! Vedi quello ti scopo! A me è quello di chi è, Davide Andrea! Ti ricordo... Davide Andrea? Non ne voglio... Non ne voglio... Entrato dentro casa, ammazzolo! Entrato dentro casa! No, dai, raga! Non ti vedo! Aiuto! ammazzalo, ammazzalo vedi fai luce, fai luce vedi oh no, è buio, è un cazzo puttanzo, ammazzalo, ammazzalo dove siete? ma dove siete? è qua dentro casa prendetela luce ammazzalo, ammazzalo non è là, non è là c'è della gente sfasciata ti faccio fuori ti faccio fuori i bè fenghi, io lo vè oh ma che gente ok mi metto giusto un paio di pantaloni oh è un po' cazzo eh e qui 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 sto imbecille fatto mi sono imbecille mi sono imbecille e qui aprite la porta che me ne vado fuori a shottarli tutti sti nudi cazzo